Dunque, dove lo facciamo? Può salire il cane? Sì, godo! No! Cane! La farei anche più grande, spero che si sposta. Cioè... No, creeper. Cioè, arriva fin qua e poi si rimpicciolisce. Noi facciamo la struttura qua, ok? E chiudiamo. Però non mettiamo il muro, facciamo una parte a sbalzo, direi che ci potrebbe stare. Ah, perché io ho detto tipo dojo, però non è che... Ah, è cresciuto, ok. Dobbiamo fare qualcosa preciso, preciso. Deve essere qualcosa di carino. Poi, se anche non è propriamente... Mamma mia! Ehi, 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 ehi! Ma cos'è? Accelera col cane dietro. Oh! Quante frecce! Che paura! Che paura! Che paura! L'ho già detto? Che paura! Qua, ti devi far risparmiare dei blocchi, ottimo. E non è vero. Invece non è vero. Ok. Qua, dicevo, andiamo a mettere le bottole. Ce l'abbiamo precise, tra l'altro. Per fare questa struttura iniziale. Cioè, non per chiudere, però. Chiudere, abbiamo detto, adesso non chiudiamo. Non con le bottole, perlomeno. Qua io pensavo... Allora, intanto mettiamo la betulla. Direi anche di farci una crafting table. Comoda, comoda, qua. L'arco teniamolo, va che... Non abbiamo un gatto per i creeper, qua. Eh, però, dappertutto ci siete. Ok, va di qua. Epla! No. Non c'ho paura a scendere. Ah, potremmo... Sì. Dov'è la botola? Non ho parole. Sono appena andato lì e non ho preso la botola. Potremmo lasciarlo così. Così ha un senso che sia qua il palo. Insomma, non sia sospeso nel nulla. Qua ha senso fare una cosa di questo tipo? Secondo me. Però forse voleva invertita la cosa. Che paura! Titolo di questo video. Che paura! C'è un po' di trovarmi un creeper dietro o altro che... Ma se stessi zitto! Ma se stessi zitto! Ah, mi rovinano tutto. No, ci arrivo, ci arrivo. Ci arrivo! Dai, re del parkour! Fatti valere! Oh, grazie. Ottimo. Via letto subito perché qua non si dura una notte. Tra l'altro nel dado c'era l'immagine giorno e notte. Tipo ho pensato... Eh, non dormo più. Qualunque cosa decido di fare. Magari anche un progetto lungo. Ci potrebbe stare. Sì, sì. No, ma... Vai tranquillo che ci potrebbe stare. Tutte le notti che ci ho passato in questo mondo... Ehi là! Comunque dicevo, potrebbe avere più senso fare così. E non lo so se qua... C'è capito dov'è il problema? Così forse ci potrebbe stare. Ok, quindi la struttura è questa. Ok. Qua non so se chiudere direttamente con le botole. Tranne nel punto in cui faremo sbalzo. Oppure se chiudere con la betulle e mettere le botole poi dopo... a sbalzo. O non metterle proprio, mettere tipo le scale e basta. Che comunque... Cioè... Da fuori sotto si vedrebbe così. Invece se faccio che si vede così è al limite... Ci metto tipo delle scale. Secondo me è più carino. Se no anche le botole sarebbero comunque... Ho un altro arco, godo. Comunque a sbalzo. Vediamo l'arco nuovo. E... Sì. Se no le botole sarebbero così ma nel vuoto. Beh, collegate a questi esternamente. O che fanno la rientranza. No. Forse le scale mi convincono di più. Poi vedremo, eh. Giustà io direi... Di lasciare like. Intanto. Cioè secondo me vi potrebbe venire qualcosa di carino. Per una volta... E c'è un'idea anche quasi subito. Tra l'altro. Mi sono sì mezzo ispirato online. Ma niente fatto propriamente così. Cioè era un dojo fermo. Rettangolare. Un po' più grosso. Quello che ho visto. Ce ne sono vari in realtà. Se cercate dojo Minecraft. Non c'entra niente con quello che sto facendo io adesso praticamente. Però... Ma magari potevo anche... Ah già. Io collegavo i travi. Qua sicuramente. Dai. Ma te mi segui se io cado? Lasciate like e iscrivetevi. Mi raccomando. Che è importante. Se volete supportarmi. E... E adesso io vedo un po' di andare avanti... Tra una cosa e l'altra. Mentre ho tempo. Con un po' di musica. E metto qua. Vado a gioco un po'. E ci vedremo quando sarò a buon punto. Da una parte spererei presto. Così magari faccio questo video già la prossima settimana. E... E lo finisco insomma. Se no dovrò registrare un altro video. E questo ve lo farò prossimamente. Voglio comunque che sia... Rimanga la serie tranquilla. Che è sempre... Rimasta di base. Per cui... Non voglio mettermi... Mettermi troppa fretta. Ce l'avevo ancora del legno. O devo già... Farmarlo. Eh no. Vabbè. Adesso abbiamo un cane. Non abbiamo né abbastanza ferro per... L'incudine. Né niente... Né name tag. Quindi facciamo poco. Però la quercia non ci sta qua. È vero che volevamo usare anche... Le impalcature in realtà in mezzo. Nel pavimento pensavo di usarle. Potrebbero usare per un eventuale piano superiore. Tipo in un angolino. E ci mettiamo una mini soffitta. Così facciamo il tetto piatto. E... Però sopra la sfiovente. Cioè rimane la mini soffitta. Ci potrebbe stare anche quello sì. E niente. Ci vediamo più avanti. Rieccoci qua nella seconda parte. Ora non so in realtà fino a dove eravate arrivati con questo video. Perché se non sbaglio c'era un pezzo che ho tagliato direttamente dall'ultimo video. Per questo. Vabbè ok. Avete presente il dojo? Sì. Ce l'avete presente perché state guardando questo video. Immagino no? Comunque quelle costruzioni là tipo giapponesi. Dimenticatevelo. O meglio. Non dimenticatevelo. Come vedete sono andato avanti. Off camera. È passato mai più di una settimana. E... Perché dico dimenticatevelo? Ok così dici. Carino. Non dico che sembra un dojo. Sembra più un punto di... Per la visuale. Per la vista panoramica. Perché è piccolino. L'avevo detto. L'avrei fatto piccolino. Ma tra l'altro se non sbaglio. Ne avevo lasciato un buco per scendere. L'ultima volta c'erano dei creeper lì. Quindi sto attento. Però come vedete è un po' strano. Non sono convinto del tetto. E... E... Vorrei anche sapere chi è che... Scusa eh. Può arrivare da sotto? Non lo so. Fatto sta. Ehm... Sì. Diciamo che fa un po' schifo. O meglio. È guardabile. Però... Non ho niente a che vedere. Con... Il templio che potevo... Intendere io. Ecco. Vedete i creeper. Ora. Visto così in mezzo agli alberi. Ci potrebbe anche stare. E considerate da finire un po'... Quello è il mio cane. Occhio eh. Considerate qua... Magari c'è un altro pezzettino. L'ultimo in vetro. O comunque... Delle staccionate. Adesso vedo. Che fa da panoramica. E... Il tetto. Io sono molto indeciso su... Come farlo. Cioè dovrei allungarlo. Dovrei... Boh. Che qua comunque ci sono gli alberi. Non si vede neanche troppo. Ecco. Tutto sommato. Diciamo è passabile. È passabile. C'è il suo perché. Quindi io penso che per ora... Anche perché sinceramente ho poca voglia di andarci avanti. Però nel senso. Mi sono messo un po' ieri sera a smanettare. Con le scale slab. E' venuto fuori questo. Non mi son tenuto immagini di riferimento eh. Forse ho sbagliato. Perché ho detto vabbè ce l'ho più o meno in mente. Vabbè. Eh comunque... Andiamo avanti. Direi di sì. L'entrata devo dire non mi dispiace comunque. Almeno quello. Quello che dobbiamo fare è... Andare avanti con il vetro. Qua avevo finito. Decidere cosa fare qua. Perché? Ecco cosa volevo fare in realtà. Scendere. E verificare dove poter mettere... Diciamo che... Prima mi mangio un po' di bacche. Sì ma non fatevi esplodere così a vicenda. Ah sì altra cosa. Mentre ero off camera. Fa ridere perché ho avuto abbastanza sfiga. Ma fa anche piangere. Ma non troppo. Io non mi ricordo adesso com'era l'angolo qua. Non ho verificato. Però in questa zona qua esploso un creeper. Ora per fortuna non mi ha fatto giù la casa. Mi ha fatto solo giù. Questo pezzettino qua. Che non mi ricordo neanche se era qua o qua. Forse era così con... Una bacca può essere. La bacca forse c'era. Fatto sta... Qua ho provato a ricostruire con i blocchi che avevo. Fino qua praticamente si è rotto in questo punto qui. E questo pezzo. Ha preso un po' questa zona che vi sto delineando. Ahimè. Anche qua penso fosse appena più lungo con i bambù. Perché me ne ha droppati un po'. Comunque. Io volevo vedere dove poter fare un'eventuale cascata. Perché era... Nei piani iniziali se vi ricordate. Almeno credo. Sono veramente intelligente. Io direi di farla partire da lì. Oppure da più interno. Oppure esterno. Così scendiamo direttamente con la cascata. Fatto sta ho pensato tu ti puoi anche buttare da lì. Per questo volevo metterci le recensioni. Eventualmente. E al massimo lì dentro puoi farci un ascensore. Che non penso faremo mai in questa serie. Quindi sì io penso che la faremo da lì la cascata allora. Potremmo anche farci la scala. Ma al contrario. Sì penso che farò così. Vi faccio vedere. Vi faccio vedere cosa intendo. Perché poi praticamente è finito. Anche per fortuna direi. Perché non voglio rendere il video troppo lungo. Considerando che è anche una seconda parte. E che... Che io voglio finire questa cosa. Allora. Se noi qui ci mettiamo una scala girata. Che ovviamente non ho. Verso di qua. Così verso l'interno. Noi possiamo fare così. Ok. Mi aspettavo facessi una forma. Prendessi una forma un po' più intelligente. Cioè che si allargasse un pochino di più. Mi sa briga a scendere adesso perché c'è un creeper proprio lì. Comunque il senso è quello. Avete capito no? Io direi se si può di dormire. Esatto. Dopodiché. Mettiamo le recinzioni. Poi ci buttiamo. E concludiamo il tutto. L'acqua. Io ce l'ho infinita da qualche parte. Per favore. Sì. Sì. Ce l'ho nel sotterraneo. Prendiamo altre bacche. Queste bacche finiscono subito e sono odiose. Perché ogni volta devi fare attento a non ripiantarle mentre le mangi. E a non bucarti mentre... Cioè. Non farti male mentre le prendi. Non farti male mentre le prendi. Ci sta. E... Tra l'altro qua non so. Ma è più carino così. E... Pepepepe. Non abbiamo neanche continuato le botole a dire la verità. A dire la verità. Ma forse ci sta bene così che non abbiamo continuato le botole. Qua comunque c'è troppa gente. Bisogna riempirci di torci e di roba perché è veramente allucinante come cosa. Non si può vedere. Né sentire. Sapete che qua potrebbe fare anche una cosa molto semplice. Però così è brutto. Precisi. Voilà. E ora devo capire. Eh. Può essere un'idea. Può essere un'idea. L'altra cosa che volevo fare erano le scale a pioli. Per fare tipo secondo piano. Più o meno. Un ripostiglio. Che a questo punto sono indeciso se fare. Però dopo sembra un po' tipo un... E non è quello che volevo passare ecco. Non so se farle tipo qui. Ci starebbero qua se no. Ah io posso metterle qua. Ok. Blochettino. Blochettino. Ah perché sono due slab probabilmente. Vabbè. Quello. Quindi io posso metterci le scale a pioli lì. Faccio di questo legno che ce n'ho tanto. Potrei anche sfruttare questi eh. Però non sono bellissimi visti così secondo me. Volevo farle rapidamente. Non mi viene. Fai così. Qua al secondo piano deve essere aggiungibile però. Quindi sostanzialmente questa altezza qua. Devo capire come fanno a colpirmi così. Perché sarebbe un problema questo. Però ti non colpirmi gli scheletri. Cos'è questo? Bushel. Mai visto. Sono abbastanza indietro. Me ne rendo conto. Niente. Le scale non me le vuole mica dare qua eh. No le scale. Ma non le scale. Ah. Sprus. 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 Alla svelta. Via. 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 Non quelli da quattro perché sono gigantorrimi pesanti e grossi e quindi non riusciamo. Tra l'altro voi non starete capendo le varie riprese. Adesso sono in maglietta. Probabilmente nell'altra avrò avuto la felpa o qualcosa. In realtà sarebbe forse dovuto essere il contrario perché è tornato un po' il freddo. L'altro giorno c'era 30 gradi. Oggi ce ne sono. Sì e no. 10. Ma va bene. Ma va bene. Da che adesso stavo bene. C'evo la maglietta di Mancipit. E quindi. Non è che di Mancipit però. Quei due sul server. Da cui ho preso il gioco. Quindi. Che non lo dico mai. Però. L'ho detto forse nel primo episodio. È giusto ricordarlo. Visto che la serie si basa su quello. Insomma. Mi piaceva comunque almeno negli ultimi episodi tenere questa maglietta. E dove sto andando? Dalla parte sbagliata. Ma neanche da chiedere. Certo. Fatti male. Ci hanno di buono che crescono alla svelta. Sono un po' simile ai cocomeri se vogliamo. Però almeno quelli non si piantano quando clicchi a caso per sbaglio. Nascì l'uovo? No. Perfetto. Troppe? Troppe eh. Sì. Ma a noi ce ne frega qualcosa? Assolutamente no. Vedete che ho un attimo un mini deja vu di una cosa di costruzione simile con le slab. Vabbè. Eh. No. Ero indeciso su come gestire. Ah. Non metterti a girare anche te. Che poi è un casino. Forse con le catene. Mi sembra un po' too much. Se puoi fare una cosa di questo tipo. Qui ci agganci. Tu sale. Sei così. Poi fai. Tac. Tac. No. Allora qua no. Cioè il punto panoramico dove non si vede una ceppa di mi. Eh. Ma insomma. Cosa volete di più? Qua ci si può mettere volendo qualche chest. Se no addirittura così. Vediamo come si presenta meglio dal basso. Eh. Ti direi così eh. Due torci le metterei in più. Ho trovato anche del carbone scavando completamente a caso. Scavato lì nell'angolo per... Perché mi serviva un po' di pietra. No. Non ci credo. Fortuna è che non sono buono di tagliare gli alberi. Qua per qualche motivo era rimasto. Sì. La luce ci serve eh. No zombie. Dai che prima che spacchi la porta che già mi hanno picchiato la porta. Uno zombie tipo corazzato. Forse è quando è esploso il creeper proprio. Buongiorno. Ora diciamo che il grosso è fatto. Non si presenta tutto sommato neanche male. Ma tutto sommato perché sommato lasciamo stare. Ti direi però di approfittarne per fare una chest. Oh grazie che mi schilegni almeno le chest. E la possiamo mettere qua. Mettiamo tutti i vari tipi di legna. E ne approfitto per prendere un po' di terra. Anzi non direi che vado diretto dai. Ok cibo non ne ho. No. Il cane mi poteva tornare utile. Però adesso lui è sceso. Quindi noi risaliamo da questo lato. Facciamo così il giro. Frecce non ne ho. Chiaramente. L'acqua ce l'ho eh. Qua c'è il nostro passaggino. Ci prendiamo la terra. E la sfruttiamo per. Fare qualcosa di un attimino più interessante. Vediamo. Altro il creeper. Adesso non ho più la legna. Mi ha rotto tutto. Mollo un attimo l'acqua qua. Va che bello da qui intanto. Si è tolta. Quasi. Aspettiamo un paio di secondi. Che poi dopo alla fine si rinisce uguale. A me mi interessa all'inizio. Ecco ecco. Ci siamo. Ci siamo. Tirato dei laghettini. Un po' così. Anche qua riempiamo un po' di torce. Finché ce ne abbiamo. Ce ne facciamo un'altra. Da tenerci nell'inventario. Per sicurezza. E saliamo. Questa cosa penso che non la toglierò perché è comodissima. Plus log ne abbiamo due. Basta no? Forse no? Niente. Niente. Di uno. Abbiamo preso anche del danno eh. Stiamo attenti. Prendiamo l'albero. Se non ce l'abbiamo già. Qui. Esatto. Abbiamo lasciato l'arberello. Perché continuo a sentire degli zombie? Ma questo te ne dà di più a distruggerlo sapete? Oddio non lo so. Voilà. Siamo anche dritti con la cascata con questo robo qua. Quindi forse non occupa neanche la visuale. Se guardi perfettamente dritto. Magari proverò dopo a entrarci. In un backup in creativa. Lo faccio al volo. E magari se viene anche una copertina carina. Sfrutto quella per il video. Non è che devo farci granché in creativa. Solo per vederla. Prendiamo invece la pelle. Che voglio verificare una cosa. Ok. 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 Diciamo così. Poi ci mettiamo due spadillegno. Per allenarsi no? Cioè mettiamo due col ferro così. Però io direi un po' per andare al risparmio. Ma un po' anche perché. C'ha forse più un senso. Di metterci due. Due catane in legno. Non so se metterle qui. Così. O così eh. Ho fatto un po' di screen. Che magari posso usare anche quelli come. Come spunto per il video. Eventualmente. Non ho lasciato il cancelletto aperto vero? Mi auguro di no. Volevo provare a guardare da un po' più lontano. Non si vede niente. Come anche giusto che sia. Poi direte. C'hai l'acqua. Perché non la usi? Non c'è più lo scheletro. Avete ragione. Avete ragione. Mi raccomando lasciate like. Comunque per questa serie. Che ormai è giunta quasi alla fine. Manca dopo. Questo credo l'ultimo episodio. Ho sentito dei mob comunque. Per il canale. Tutto. Se avete eventualmente idee. Qualcosa. Dite pure ovviamente eh. Questo. Questo penso sia tutto. Per questo video. Qui dai. Facciamo così. Vado velocemente nella cartella. Saves. Ma incipit stagione 1. Coppia. Incolla. Coppia. Rinomino creative. Perché se no mi confondo come. È già successo. Che senza rinominarlo è un casino. Ora. Creative è questo qua. Ci andiamo. Come vedete. Perfettamente davanti. Non si vedono. Le impalcature. Mi piace così di notte. Comunque. Tipo questa come copertina. Non è male. Non lo so. Quello ci guarderemo poi. E niente. Torniamo. Nel mondo originale. Manca. Stagione 1. Trovate tutti i social in descrizione. Mi raccomando. E. Noi ci vediamo. In un prossimo video. Potrebbe essere un vlog. Potrebbe essere su minecraft. Come su qualche altro gioco. Non lo so. Alla prossima. Alla prossima.